Oggi siamo al Castello di Nipozzano, sulle colline toscane. Castello di Nipozzano che è la sede dei nostri corsi della DRE Enduro Academy. Siamo a Castello di Nipozzano perché vogliamo raccontarvi della nuova multistrada 1260 Enduro. 2016, Ducati è entrata per la prima volta nel settore delle travel enduro, le Club Totter adatte per i viaggi a lungo raggio con la Ducati Multistrada 1200 Enduro. Un moto confortevole e performante in ogni condizione on e off-road. Oggi la multistrada Enduro si evolve, si aggiorna e si arricchisce di contenuti importanti. Il design multistrada, solido e curato, elegante e sportivo allo stesso tempo, si rinnova grazie alle nuove grafiche e nuovi colori. Il motore è il testa stretta 1260 DVT che ha esordito l'anno scorso nella multistrada 1260. Il motore ha subito, oltre a un leggero aumento di cilindrata, ha anche tutta una serie di migliorie di interventi che permettono di ottenere una curva di coppie estremamente piatta e corposa sin dai bassi regimi. Questo permette di guidare la moto utilizzando molto meno il cambio e guidandosi nient'altro che la guida. Inoltre, la moto è dotata di serie di quickshifter up and down per l'utilizzo del cambio senza frizione. Gli interventi alla ciclistica e soprattutto all'ergonomia hanno permesso di ottenere una moto molto più facile e molto più confortevole per ogni pilota e in ogni condizione, in particolare nel movimento a bassa velocità e in manovra con moto carica e con passeggero. È stata ridotta l'altezza della sella e l'altezza del baricentro. L'ACMAI, l'interfaccia pilota moto, è stata rivista grazie ad un nuovo display TFT a colore ed alta risoluzione e l'interfaccia è stata completamente ridisegnata e in questo modo risulta più facile, intuitiva e funzionale. La nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro sarà disponibile in colori rosso Ducati e sabbia con pneumatici stradali oppure pneumatici tassellati. Inoltre, il catalogo Ducati Performance prevede una ricca gamma di accessori dedicati. Ci saranno poi quattro pacchetti, Touring, Sport, Enduro e Urban e un completo Touring Enduro dedicato e disegnato da Trudy in esclusiva. La Multistrada 1260 Enduro sarà visibile in anteprima a ECMA a Milano a novembre 2018 mentre le moto arriveranno dai concessionari Ducati nelle primissime settimane del 2019.